Buonasera, siamo in piazza Salvatore Greco per la Sagra del Tartufo di Pizzo. Si sa, le sagre uniscono tutti, uniscono i giovani e i meno giovani ed è questa l'intenzione dell'amministrazione comunale. Infatti cerchiamo stasera di avvicinare i giovani a questa piazza che noi chiamiamo Ariella, che di solito ritrovo dei meno giovani, degli anziani, dei nostri genitori. E quindi qual è l'ingrediente che unisce tutti? Il Tartufo di Pizzo che è un'eccellenza calabrese. Infatti ringrazio la Gelateria Enrico che è una gelateria rinomata nel territorio regionale e oltre. Ringrazio voi di Liberi TV, sempre molto attenti al territorio comunale e oltre. E diciamo che questo è il primo evento di una serie che stiamo programmando, soprattutto concentrati nel mese di agosto, che renderemo noti a breve anche perché vorremmo capire anche la situazione sanitaria che ancora è preoccupante. Speriamo di uscire presto da questa situazione grazie al vaccino. Grazie comunque a tutti. Grazie a tutti.